benvenuti ben ritrovati una nuova puntata di res pubblica sicilia chiama europa quest'oggi ci soffermiamo in questa prima parte sul congresso provinciale di fratelli d'italia e nei giorni scorsi abbiamo avuto ospite anche nella doppia veste di consiglio comunale maurizio miceli che è candidato come sapete appunto al coordinamento provinciale e quest'oggi abbiamo l'avversario cioè l'onorevole Livio Marrocco ben ritrovato Livio che si candida diciamo quasi a sorpresa in un certo senso perché fino a una settimana fa sembrava esserci un solo aspirante alla carica di guida politica per la provincia di tramane di fratelli d'italia invece proprio in questi giorni ripeto quasi a sorpresa poi scopriremo magari che non è stato proprio così ma ce lo dirà lui è arrivata la seconda candidatura e che candidatura una candidatura di peso dieci anni dopo ritorna proprio ufficialmente Livio Marrocco a dire che c'è che c'è e che vuole fare ancora di più come è già fatto in questi anni la sua parte in politica in un partito che è quello di fratelli d'italia oggi il partito di governo certamente ma era sicuramente nell'aria la necessità di cambiare un po' per certi versi anche direzione per certi versi anche clima dentro il nostro ambiente di sicuro esternamente certe cose come capita spesso in molte organizzazioni non trapelano ma è ovvio che c'era un dibattito internamente che poi ovviamente sfociato anche nella necessità nel bisogno come spesso capita nei congressi di manifestare le proprie idee di manifestare anche una strada alternativa una visione alternativa rispetto alla situazione attuale per cui così come d'altronde una mia prima dichiarazione quando abbiamo ufficializzato la candidatura ho detto ecco si è scelto Livio Marrocco mi hanno chiesto di mettermi in prima linea non per candidarmi contro qualcuno sarebbe già sbagliato partire così ma perché abbiamo un'idea diversa di partito d'altronde il congresso parte dalla necessità di fare un dibattito un confronto su quello che è il partito in termini di organizzazione in termini di visione politica in termini di programma di proposta per cui da lì che bisogna partire quindi la prima analisi che si fa quando si deve fare un progetto un programma mirando e guardando al congresso è proprio capire lo stato di salute del partito e da lì noi siamo abbiamo iniziato a ragionare a riflettere sulla necessità di immaginare un percorso diverso partiamo proprio dallo stato di salute secondo Livio Marrocco del partito qual è ma noi abbiamo vissuto una crescita esponenziale del partito non solo non soltanto a trapani ma in tutta italia fratelli italia è cresciuta da cifre diciamo del 4 5 per cento fino a raggiungere il consenso non soltanto delle ultime elezioni nazionali e regionali ma di quello che poi oggi i sondaggi ci dicono essere un partito che ha consolidato fortemente la presenza nel nostro paese e con ovviamente doppie cifre importantissime per cui questa crescita esponenziale di sicuro ha dato come dire grande grande impatto grande respiro grande forza alla struttura organizzativa che ovviamente sul territorio si è proiettata questo ha messo in difficoltà tanti perché ovviamente passare da una struttura che gestisce un partito del 5 per cento a una struttura che gestisce un partito del 30 per cento sicuramente mette in difficoltà tutti il problema è che però spesso in molte realtà e trapani una di queste le cifre elettorali delle politiche delle regionali spesso poi negli enti locali non hanno avuto lo stesso andamento e questo poi è come dire risponde alla vera analisi che bisogna fare sullo stato di salute del partito in provincia di trapani perché le elezioni degli enti locali sono quelle che ti fanno capire veramente come sta un partito nel territorio perché quelle nazionali regionali sappiamo che sono poi spesso come dire gestite anche dall'immagine del leader del partito che giorgia meloni quindi trascina tantissimo nell'elettorato la figura di giorgia e quindi la campagna elettorale delle politiche delle regionali ha un risultato a sé stante rispetto poi a a quello che il partito e le strutture periferiche fanno sul territorio lì beh ci rendiamo conto che magari proprio di fronte ad una crescita esponenziale a livello nazionale il partito a livello territoriale invece non ha seguito la stessa strada e questo ci fa comprendere che evidentemente ciò che è stato fatto in questi ultimi anni in termini di organizzazione e di strutturazione del partito sul territorio probabilmente non è stato fatto bene e questo lo si vede quando poi tu devi organizzare campagne elettorali quando poi devi confrontarti con i circoli e le tue cellule sul territorio la tua comunità sul territorio che deve costruire le liste per le elezioni amministrative cioè la struttura e il cuore pulsante del partito è come dire la parte principale in termini di dibattito di confronto ma anche di costruzione di un percorso e di una proposta politica che poi sfocia nella costruzione di una lista elettorale quindi se noi non lavoriamo sulla parte organizzativa del partito sulla parte comunitaria del partito perché poi costruire i circoli organizzare il partito nel territorio significa anche creare dibattito nel territorio il dibattito significa confronto significa costruzione di un'idea di un pensiero quindi di una proposta territoriale sul territorio quanto più noi riusciamo a far parlare la nostra comunità fra di loro quanto noi riusciamo a farla confrontare sui temi che ogni realtà deve affrontare in termini di difficoltà sul territorio noi riusciremo a far crescere ancora di più la nostra comunità e a farla trovare poi pronta alle sfide importanti che sono quelle elettorali ecco su questo punto principalmente noi abbiamo riscontrato il fatto che siamo molto indietro molto indietro in termini di organizzazione e di strutturazione del partito e tutto questo che colpa alivi marrocco visto che sei stato anche per un diciamo dietro le guide ma ufficialmente diciamo c'era così almeno per la stampa nella lega per esempio e non hai contribuito all'attecchimento di fratelli d'italia in prigia di trapani ma noi un po in colpa da questo punto di vista no per carità sicuramente noi abbiamo fatto percorsi che ci hanno portato come dire ad adere a ritornare a casa ecco dentro fratelli d'italia probabilmente tardivamente no rispetto rispetto a quello che magari era anche la nostra la nostra volontà ma questo appartiene alle dinamiche ma non era la fratelli fratelli d'italia adesso allora è chiaro no cioè era un'altra realtà allora fratelli d'italia aveva il 4 per cento il 5 per cento quindi anche da un punto di vista di struttura sul territorio era molto facile da essere quindi da da essere organizzata per cui è chiaro che il confronto non si può fare il problema è che quando tu cresci avendo anche un'esperienza ed un'idea di partito forte tu sai perfettamente che la struttura deve reggere l'impatto elettorale quindi la struttura diventa fondamentale sulla quale devi concentrarti e quando io parlo di confronti di dibattito parlo proprio di costruzione dell'idea del come dire del del pensiero politico all'interno di un partito quindi le due cose camminano molto di pari passo cioè la necessità di avere un luogo e un posto nel quale tu ti vedi con la tua comunità di destino nella quale tu puoi confrontarti sulle vicende che è come dire riguarda nel tuo territorio significa costruire in quel momento anche una proposta politica forte sul territorio tutto questo non c'è stato tutto questo non c'è regionale c'è una un ottima un ottimo risultato alle regionali con la lista un quasi sindaco a tra ma guarda questo fa parte anche delle dinamiche di un partito ieri presenti quasi dappertutto ma questo fa parte anche del ma attenzione noi dobbiamo dire anche che non sempre però il risultato elettorale delle singole persone è direttamente proporzionale alla struttura che le accompagna noi abbiamo ottimi risultati che hai tu stesso citato ma questo possono essere figlie di anche vicende personali no e quindi il l'ottimo risultato per esempio del di nicola catania è figlio di un percorso che nicola catania ha portato lui dentro il partito e quindi non sempre questo è figlio della struttura partita ecco perché dobbiamo sempre distinguere poi ci sono per carità realtà territoriali che per esempio hanno fatto un buon lavoro io non è che dobbiamo essere dobbiamo essere obiettivi ci sono realtà territoriali che circoli che hanno si sono riuniti hanno lavorato e laddove questo si è fatto i risultati si sono visti per esempio allora dobbiamo essere anche in questo molto molto obiettivi c'è da dire che però il confronto è venuto molto a mancare in questo e allora ma perché uno dice questo non è che sottolineare questi aspetti negativi significa per forza essere contro tizio contro caio ma qua l'obiettivo è far crescere il partito cioè far trovare il partito pronta alle sfide che noi abbiamo no ma anche in termini di proposta sul territorio cioè quanto più noi ci confrontiamo quanto più noi ci concentriamo sulla realtà territoriale e ci riuniamo e discutiamo anche con idee diverse ma è molto più facile raggiungere una sintesi ed è molto più facile come dire intraprendere un percorso che sia condiviso dentro il partito allora la dialettica è sempre un fatto positivo anche se si come dire si confrontano idee diverse ma la sintesi diventa poi l'azione del partito sul territorio la mancanza di riunioni di struttura di presenza perché questo poi significa anche la mancanza di organizzazione di eventi sul territorio la mancanza di presenza sul territorio la mancanza di una proposta politica ecco tutto questo fa rallentare la struttura partito e poi ovviamente dobbiamo correre a ripari quando magari dobbiamo fare le liste elettorali quando dobbiamo confrontarci con le elezioni amministrative perché la lista va fatta e dobbiamo allora con il nostro bagaglio personale sopperire alle mancanze magari organizzative in tutto questo tu come contribuirai quindi facciamo finta che non sarai tu il prossimo segretario provinciale come si chiama segretario provinciale presidente provinciale di fratelli d'italia che succede certamente è una c'è da dire che devo fare una precisazione perché chi ci sta seguendo magari nella replica noi andiamo in onda in prima emissione di venerdì sera il congresso è proprio domani mattina sabato alle 9 30 si inizia l'hotel cristal a trapani il risultato si saprà a tardo pomeriggio quindi se ci state seguendo in replica sappiate che stiamo parlando del giorno prima del congresso provinciale quindi può essere cambiato qualcosa da qua a quando voi ci state seguendo era giusto precisare giusto giustissimo non deve creare diciamo qualche confusione in chi ci segue quindi diciamo non sei facciamo finta che non sei tu il poi facciamo l'ipotesi ma è assolutamente un'evenienza no nel senso quando c'è un congresso e ci si confronta ovviamente tesserati sceglieranno si voterà non è che si vince sempre giusto così come non si perde sempre uno fa una come dire si approccia ad una ad un confronto la domanda un po più monella quindi ho tutto o niente o comunque perdendo ci sarà poi la parte di via marrocco ma questo senza dubbio noi avremo saremo presenti nel se mai ovviamente mi auguro di no ma se mai dovessimo ovviamente non vincere il congresso noi saremo presenti nel direttivo provinciale faremo la nostra parte come abbiamo sempre fatto in maniera costruttiva ma ci mancherebbe il nostro la nostra prima esigenza la nostra il nostro primo obiettivo è quello di costruire un partito che sia plurale che sia che abbia obiettivi condivisi che si riunisca che sia presente nel territorio che organizzi i circoli che riunisca il direttivo provinciale che organizzi eventi sul territorio che servono per costruire un'idea di partito un pensiero politico ma viva dio penso che questo sia l'obiettivo principale di tutti quindi non ci sottrarremo mai ad un al nostro dovere cioè a fare il nostro dovere qualora ovviamente non dovessimo e se invece diventassi tu il presidente provinciale il primo primo atto targato lì via marrocco quale sarà proprio il primo primo ma di sicuro la stagione dei congressi comunali dappertutto questa è la prima cosa che farei immediatamente aprire una stagione di assemblee comunali in ogni realtà del territorio dove siamo presenti e laddove non siamo presenti fare di tutto per aprire un circolo noi dobbiamo avere una capillarità nel territorio tale da permetterci di essere pronti ad affrontare qualsiasi sfida ma soprattutto a dare voce a dare voce ai tanti che sostengono l'azione di giorgia meloni che sostengono l'azione fratelli itali che magari non hanno vicino in quel territorio il circolo o che magari non sanno che esiste il circolo perché non si riunisce e allora noi dobbiamo assolutamente partire dalla base che è l'idea fondante del partito ok raccontiamolo questo partito nuovo ma io penso che giorgia meloni abbia fatto un grande sforzo e abbia offerto ad ognuno di noi la possibilità di finalmente governare il nostro territorio che è una grande responsabilità per governare il territorio tu hai bisogno di essere interprete delle delle necessità delle esigenze di quel territorio e trasformarle in visione politica visione politica significa progetto politico proposta politica significa avere un'idea del territorio avere un'idea della tua città e questo lo si fa se tu sei presente la presenza è fondamentale ecco perché il partito come tale fonda tutto sulla sua organizzazione ecco perché bisogna essere presenti con i circoli coinvolgere aggregare abbiamo fatto una bellissima campagna tesseramento perché si sapeva che c'era il momento del confronto congressuale ma questo al di là del momento congressuale quindi dal lunedì prossimo questo deve essere utilizzato per coinvolgere tutti i nostri tesserati coinvolgerli nei circoli coinvolgerli con il dibattito interno coinvolgerli con gli eventi allora se noi questo lo facciamo da subito al di là di chi vince è un congresso un po in un certo senso monco che non vuota tutta la provincia di trapari no no vota tutta la provincia di trapari sì ma con alcune città più rappresentativo obiettivamente ah beh è chiaro che diciamo oggi la presenza del partito nel territorio è come dire limitata alla presenza dei circoli e ovviamente ci sono realtà che ancora non hanno circoli questo sì ma sono piccole realtà sulla quale però bisogna lavorare perché diciamo la nostra organizzazione interna il nostro statuto ci permette di costituire un circolo con dieci tesserati quindi sono convinto che facendo un ottimo lavoro sul territorio possiamo aprire un circolo dappertutto questo senza dubbio ma c'è bisogno di grande presenza ecco perché è importante che il primo atto da fare sia quello di concentrarsi sulla base cioè di far rivivere ecco quella voglia di partecipare alla vita interna del partito che tu puoi fare solo quando coinvolgi il circolo con miceli vi siete sentiti recentemente no ma qualche mese fa sì sicuramente come abbiamo sempre fatto ci mancherebbe probabilmente lui non si aspettava che arrivasse la nostra candidatura ma viva dio io penso che questo non deve essere letto mai da un punto di vista personale perché così non lo è ci mancherebbe anzi io penso che questo sia un modo per far dibattere il partito per farlo confrontare per far uscire fuori anche tesi diverse idee diverse che però poi devono avere una sintesi in questo caso la sintesi sarà l'elezione del presidente provinciale ma dall'indomani il presidente provinciale chiunque esso sia sarà mi avrà anche la responsabilità di fare sintesi fra le varie anime come accade in tutti i grandi partiti e questo penso che lo si farà assolutamente chiunque esso sia perché comunque un momento elettorale sancisce un punto di partenza che è il rispetto per chi ti vota quindi è chiaro che quando tu hai eletto un direttivo provinciale quando tu hai eletto un presidente non puoi ecco venir meno rispetto alla volontà di chi ti ha scelto e in questo senso anche di rappresentarla senti in questi anni gli errori più grossolani quali sono stati secondo te senza volerli per forza personalizzata ma io non penso che ci siano errori grossolani io penso che ci sia beh erice non lo ritieni tale no ecco stavo arrivando io penso che ci sia sicuramente ci sia stata una mancanza di esperienza che non per forza viva dio chiunque può avere non lasciamo tutti insegnati quindi io non ne faccio un problema assolutamente però c'è stato c'è stato come dire una gestione che probabilmente si è basata sulla mancanza di esperienza e questo magari purtroppo ha portato con sé degli errori che poi sono stati anche pesanti perché la mancanza di rappresentanza o del 5% del nostro partito partito come il nostro a erice è stato come dire sicuramente pesante e quindi questo di sicuro ma anche in altre realtà si sono fatti si raggiunti alcuni obiettivi ma sempre con come dire errori che sono secondo me figli di questa di questa inesperienza e devo dire che spesso questo è stato dovuto anche alla mancanza di confronto interno perché probabilmente se noi avessimo come dire serrato i ranghi convocato di più le riunioni so che tu chiami mancanza di confronto esterno io lo traduvo con due gruppi distinti e separati il gruppo tra virgolette micelio e il gruppo tra virgolette marrocco no ma allora anche questo esternamente è una lettura che potrebbe essere anche superficiale il senso è se noi non abbiamo l'occasione di confrontarci o di dire qual è la strategia migliore e non abbiamo un luogo nel quale ci confrontiamo e nel quale ci vediamo anche costantemente per evitare il confronto per evitare o perché magari qualcuno pensa che questo porti ad uno scontro non è così non è così io dico direttore tu sai benissimo vengo da un'esperienza di partito come dire in cui quali scontri c'erano come dire confronti pesantissimi fra big veramente di un certo livello io ricordo l'ultimo congresso che ho fatto di alleanza nazionale quando come dire sono diventato presidente e avevo personaggi del calibro di Nicola Cristaldi di Beppe Buongiorno di Beppe Bica cioè erano personaggi di un certo calibro ma noi il confronto interno lo come dire lo mantenevamo costante perché comunque ognuno anche se da posizioni diverse comunque ognuno portava la sua strategia la sua visione che poi diventava sintesi dentro il direttivo provinciale cioè quello che dico io è che se noi probabilmente ci fossimo riuniti molto di più se noi ci fossimo confrontati molto di più noi una sintesi probabilmente l'avremmo raggiunta sempre per il bene del partito perché poi alla fine viviamo nella stessa comunità non è che abbiamo valori diversi possiamo avere strategie diverse possiamo avere proposte territoriali concrete probabilmente diverse ma nella realtà delle cose noi siamo una stessa famiglia quando si vive si sta all'interno di un'associazione di un'organizzazione di un partito è chiaro che quando tu aderisci lo fai perché tu sposi quei valori quindi fatto salvo l'appartenenza a quei valori è chiaro che poi noi abbiamo però la necessità di mettere in campo strategie che poi portino a casa il miglior risultato possibile senti la squadra di Marrocco eventualmente quale sarà? ma diciamo che il regolamento del congresso non prevede una lista che viene presentata insieme al presidente prevede che chiunque può candidarsi al ruolo di dirigente provinciale la candidatura la può presentare la mattina dell'apertura del congresso si possono esprimere tre preferenze mentre invece il nome del presidente è già stampato nella scheda quindi si mette solo una X quindi noi candideremo sei giovani dirigenti provinciali ci sono quattro seggi in cui si voterà che sono Trapani, Alcamo, Mazzara e Castelvetrano e quindi questi sei giovani sono tutti in rappresentanza di questo territorio abbiamo cercato un po' di spalmare sul territorio le candidature ovviamente sapendo che su Trapani c'è il presidente provinciale in questo caso candidato che sono io e quindi abbiamo dato spazio alle altre realtà come Castelammare, Alcamo, Castelvetrano, Mazzara insomma abbiamo fatto una bella squadra per cui domani mattina i nostri giovani presenteranno le loro candidature le nostre spero migliori intelligenze che si presenteranno senti poco fa hai menzionato un big della politica a prescindere dall'appartenenza che è Nicola Ristaldi, si ricandida al sindaco di Mazzara del Vallo con i futuristi, il suo movimento diciamo così, beh è un peccato che non sia un fratello d'Italia o no? Ma io... So che avete un buon rapporto Sì sì sì, devo dire la verità ma come si fa? Non avevo un rapporto buono insomma con uno tra l'altro che ha rappresentato per me che da piccolo sono entrato nel direttivo provinciale avevo 17 anni insomma e con grande rispetto e come dire silenzio ascoltavo i suoi interventi cercando di capire quanto diciamo di più potevo perché ovviamente lui è un grande maestro no? Del nostro ambiente umano e culturale quindi figuriamoci certo diciamo è un peccato e probabilmente dovevamo forse lavorarci prima a recuperare questo rapporto non so se ci riusciremo non so se questo è possibile farlo molto dipende anche dal territorio molto dipende dalla realtà di Mazzara e in ogni caso nella tua visione la fratello d'Italia deve appoggiare la candidatura di Cristaldi? Ma io non do diktat, io ho un'idea di partito molto territoriale io sono dell'idea... Ma non è un diktat? No 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 nel senso lo dico perché è il territorio che deve esprimere innanzitutto la prima idea e la prima proposta quindi in questo caso deve essere Mazzara a come dire immaginare la propria strada ed è lì che poi nasce il percorso ci si confronta poi col territorio e il direttivo provinciale stabilisce la linea e la strategia ok quindi io posso dire cosa farei io Livio Marrocco? Ma dico stare con Nicola Cristaldi per me sarebbe scontato cioè è uno della nostra famiglia come potrei dire no andiamo con qualcun altro ma lo dico da Livio Marrocco da partito cioè da presidente di partito c'è bisogno di una serie di passaggi bisogna che il territorio dica la sua bisogna che il direttivo provinciale si riunisca e ci si confronti e questo deve essere fatto anche all'interno di un certo ragionamento con i nostri alleati perché non dobbiamo dimenticare anche che i rapporti con gli alleati sono sempre importanti quindi da un lato c'è come dire il mio pensiero che è strettamente personale ovviamente ma anche perché ho condiviso con Nicola gran parte della mia vita di partito per cui come potrei diciamo immaginare di poter stare con qualcun altro certo è che il partito deve fare i suoi passaggi importanti che sono figli della sua ovviamente vita interna Senatore Raul Russo Beh è un amico no? Abbiamo anche lì con Raul abbiamo condiviso momenti All'inizio veniva un po' più spesso però la provincia di Travani ora si è un po' defilato No non si è defilato Ma magari viene ogni settimana io non lo so No 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 non si è defilato assolutamente ci sono anche come dire non sempre tutti gli appuntamenti sono pubblici quindi ci mancherebbe devo dire che ultimamente è stato anche gravato da incarichi di un certo tipo per cui tra la commissione antimafia adesso fa parte della segreteria nazionale dei congressi per cui vi lascio immaginare cosa significa organizzare i congressi in tutta Italia quindi è chiaro che questo è anche un momento storico diciamo complicato perché si devono dividere in tutta Italia Raul è un amico di vecchissima data noi all'università andavamo insieme a attaccare manifesti cioè parliamo di militanza vera per cui non c'è molto da dire se non che è un carissimo amico per cui figuriamoci No ma infatti questa è la persona io volevo sapere che ne pensi del senatore No ma è uno che è veramente sul pezzo dappertutto cioè riesce a interpretare le esigenze anche del territorio che provengono tra l'altro è un collegio vastissimo quello di cui lui è rappresentante cioè senatore per cui riuscire ad essere a dividersi fra Palermo e la provincia di Trapani insomma non è facile devo dire che però risponde sempre come dire in maniera puntualissima alle esigenze e alle sollecitazioni che arrivano che tra l'altro sono sempre molto come dire pressanti perché ci sono tanti problemi che poi noi sottoponiamo ai nostri rappresentanti quindi su questo non c'è dubbio Siamo in una fase di grande fermento politico in provincia di Trapani ieri giovedì il congresso provinciale dell'MPA domani appunto il congresso di Fratelli d'Italia la nuova coordinatrice comunale di Trapani del Movimento 5SL che si sta iniziando a strutturare come un partito che è Francesca Trapani la nuova segretaria comunale del Partito Democratico Zara Rosario Simonte prendere le redini di Italia Viva un sacco di giovani c'è fatto caso ma questo mi sembra tutti quarantenni al di sotto dei cinquant'anni questo mi sembra un fatto assolutamente positivo e tra l'altro secondo me risponde anche all'esigenza di trovare classe dirigente preparata secondo me è la risposta migliore che la politica può dare a prescindere dall'appartenenza ai vari partiti ma è la risposta migliore che si può dare quando la gente cerca punti di riferimento di un certo tipo cioè competenza, preparazione il fatto di essere anche interpreti di un certo ambiente cioè di una certa professionalità cioè l'imprenditore io sono imprenditore il professionista cioè il fatto che si viene da un certo ambiente che si rappresenta un certo ambiente che si rappresenta anche una certa generazione e una certa esperienza di vita penso che sia assolutamente il cocktail migliore che si può offrire a chi tra l'altro lamenta spesso giustamente devo dire ecco la mancanza di classe dirigente preparata quindi secondo me è un cambio di passo importante anche perché poi alla fine i partiti fra di loro si devono confrontare quindi se c'è anche da un punto di vista generazionale una stessa come dire linea che ci unisce penso che sia anche più facile discutere fra di noi senti Livio ma sono riservato alla fine la parte più brutta dico dieci anni di presenza insomma assolutamente molto quasi aleatoria pubblicamente almeno per le vicende legate alle questioni giudiziarie che ti hanno visto il protagonista com'è cambiato Livio Marrocco in questi dieci anni a seguito di quelle vicende? Beh sarei diciamo forse stupido se dicessi che non mi ha cambiato anzi assolutamente ti segnano pesantemente perché intanto ti fanno conoscere un mondo che una persona normale magari sconosce che è quello del mondo giudiziario e quindi conosci un sistema che da un minuto all'altro ti può distruggere soprattutto quando poi tu come dire sei convinto di essere una persona innocente e ti rendi conto di come poi diventi veramente minuscolo rispetto a un sistema che ti può stritolare in qualsiasi momento e queste sono cose che ti segnano cioè non si può non sottolineare per cui si esce fuori da queste vicende quando tra l'altro finiscono positivamente si esce sicuramente molto temprati ti rendi conto che poi nella vita esistono solo alcune cose veramente importanti perché in questi dieci anni alla fine ti sei ritrovato accanto la famiglia il lavoro, l'azienda gli amici veri quelli che non ti hanno mai abbandonato e quindi lì ti rendi conto che c'è quella ipotetica scala gerarchica di valori alla quale poi tutti magari facciamo riferimento un po' superficialmente nella realtà delle cose quando ti accadono poi delle vicende anche pesanti come queste esistono veramente e sono dei punti fermi sui quali oggi assolutamente io non riuscirei più a transiggere ecco in che senso? è perché perché parlo per esempio dell'attività politica no? io non leverei mai più un secondo alla mia famiglia rispetto all'attività politica cioè se dovessi accompagnare mio figlio a giocare o a fare io prima accompagnerei mio figlio un giorno forse non l'avrei fatto cioè nel passato avrei messo prima la passione l'attività politica il lavoro no ecco oggi io non lo farei mai più perché mi sono reso conto che quello che conta veramente nella vita è quello che ti sta accanto ed è quello che rimane sempre per cui sì torno a fare politica sono tornato sono qui sono presente ma se dobbiamo fare una riunione fuori dagli orari di gioco dei miei figli fuori dagli orari in cui devo dedicare il mio tempo a mia moglie o alle cose importanti mi piace questo concetto mi piace penso che un po' tutti lo dovremmo applicare più spesso prima ci si arriva meglio è meglio tardi che mai dall'assoluto di vista beh torni a fare politica in realtà non è mai smesso dai in questi ultimi anni malgrado fosse in corso appunto la questione giudiziaria quanti ti hanno chiesto ma candidati al sindaco candidati qua candidati qua no ogni tanto certe richieste non le comprendevo perché insomma tutti sanno che io ho fatto un passo indietro dinanzi alla vicenda giudiziaria sì per carità avrei potuto anche continuare a fare politica però l'hai fatta dietro le quinte dai no 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 ma infatti dico però da un punto di vista attivo cioè nel senso in prima persona avevo preso una scelta avevo preso una decisione per cui ho fatto come dire mille passi indietro però la politica è come dire quella malattia che quando ti prende è quel virus che quando ti prende da giovane ma giovane non intendo come dire ventenne no tu proprio sei nato ho cominciato a 15-16 anni per cui quando quel virus ti prende difficilmente riesci a debellarlo totalmente per cui si fai un passo indietro però hai anche senti anche la responsabilità di quel gruppo che poi è sempre con te no infatti per cui in questi anni sono stato dietro le quinte ma ho lavorato per il mio ambiente umano no ho cercato di mantenere il mio ambiente sempre sul pezzo abbiamo sempre mantenuto anche una certa organizzazione di eventi spesso anche culturali abbiamo sempre prodotto idee, proposte certo il centro studio di Civitas con il nostro istituto diciamo di studi culturali e sociali ed economici quindi è chiaro che abbiamo fatto un lavoro altro che però ci ha fatto restare presenti nel territorio e mantenendo alto anche il livello del dibattito che secondo me è anche una cosa molto importante dunque chiunque sia il prossimo presidente provinciale c'è immediatamente anche se non è competenza il presidente provinciale una questione che purtroppo sta un po' lacerando le dinamiche interne del partito che è il ricorso Bica-Catania il partito finora se l'è guardato diciamo così dall'alto non si è espresso se non con qualche nota molto leggera però è una questione che va presa di petto credo o no ma io penso che per sebbene ripeto sia di competenza dei tribunali io penso che intanto lo stato dell'arte è tale per cui diciamo ormai la strada diciamo da un punto di vista giuridico deve seguire il suo corso penso che il partito però deve fare la sua parte cioè che comunque vada il partito deve sanare questa ferita e che deve pensare all'obiettivo finale l'obiettivo finale è far crescere una comunità non creare divisione all'interno e questo significa garantire la vita di tutti dentro il partito quindi questo è assolutamente doveroso per cui al di là di come finisce questa vicenda chiusa questa comunque il partito deve avere la responsabilità di caricarsi comunque l'obiettivo principale che è come dire il bene del partito per cui nessuno deve rimanere indietro ma questo non vale solo per Bica e Catania vale per chiunque nessuno deve rimanere indietro perché questo oggi è un grande partito che ha la possibilità di poter come dire dare spazio a tutti ovviamente lavorando insieme con il grande partito che ha rischiato di diventare un partito giubox alle scorse regionali ma questo rischio c'è sempre quando un partito cresce in maniera esponenziale in poco tempo ecco perché la struttura partito diventa importante perché la struttura diventa il cuscinetto per evitare queste discrasie e allora l'organizzazione tende a evitare che ci possano essere situazioni di questo tipo ecco perché io sono molto fissato chi mi conosce lo sa sono molto fissato su questo chiudiamo congressi di solito oggi si arriva in maniera unitaria o si vincolano colpi di tessere e quindi chi vince chi ha più tessere ah beh questo diciamo è una bella domanda devo dire ognuno sostanzialmente nasconde no no le dinamiche congressuali sono sempre molto particolari perché noi partiamo da sfavoriti se il riferimento è il numero delle tessere noi partiamo da sfavoriti perché ne abbiamo ovviamente qualcuno e meno ma le dinamiche congressuali sono assolutamente fuori dalle logiche numeriche quindi non lo so cosa può accadere ma lo dico sinceramente io ricordo appunto l'ultimo congresso che feci allora ero io contro Peppe Bica oggi siamo insieme ero contro Peppe Bica anche allora noi eravamo sfavoriti ma in realtà poi le dinamiche furono tali per cui invece quel congresso io lo vinsi ma non si può fare una previsione perché obiettivamente è difficile farla io dico solo che però l'obiettivo principale deve essere sempre l'unità del partito ecco la candidatura ma l'ho detto ripeto allora la candidatura che abbiamo espresso noi è un appello all'unità del partito non deve essere vista come un momento di divisione anche anzi tutt'altro è esattamente la volontà di voler come dire riunire tutto un ambiente all'indomani di un bel dibattito di un bel confronto grazie chi sarà il prossimo presidente provinciale di Fratelli Italia lo scopriremo domani mattina o lo abbiamo scoperto ieri o nei giorni scorsi per chi ci segue nelle repliche non andiamo in onda di prima emissione il venerdì è stato con noi Livio Marrocco lo ringraziamo grazie grazie per l'invito interessante la sua visione appunto della politica sì dentro Fratelli Italia ma in generale non gli ho chiesto di analizzare le singole realtà lo faremo poi dopo c'è tempo abbiamo un'altra stagione di elezioni amministrative poi c'è pure le europee forse chissà le provinciali c'è chi dice sì c'è chi dice no tipo Pasco Rossi ma lo scopriremo dopo grazie intanto a Livio Marrocco noi adesso andiamo a parlare di cultura con la presentazione di un libro eccoci con la seconda parte di Respubblica Sicilia chiama Europa parliamo di cultura parliamo di sono io che vi chiamo il primo romanzo di Giampiero Montanti che ho qui in studio e che da bancario si cimenta in una delle arti più difficili quella della scrittura riuscendo in questa sua prima opera a far trasformare l'odio in amore o quantomeno in comprensione una storia quella narrata in questo sono io che vi chiamo che parte dagli anni 50 e arriva fino ai giorni nostri parte da uno scandalo per riunire le anime in questa sua sapiente obiettivamente capacità di scrittura un libro che è stato ben apprezzato almeno nella sua prima uscita pubblica dai cittadini trapanesi che proprio in queste ore hanno assistito alla presentazione del libro qui in città da bancario dicevamo a scrittore ciao Gian Piero intanto grazie per essere qui arrivato in studio come si fa a trasformarsi così dai freddi numeri alla bellezza della narrazione mettendo il cuore beh in realtà io sono partito dalla narrazione perché io scrivo da quando ero ragazzino poi mi sono diciamo lasciato coinvolgere dalla professione bancaria che ho sempre cercato di fare comunque con un mio modo mettendoci comunque la giusta tensione e non soltanto la freddezza dei numeri per poi ritornare negli ultimi anni a scrivere ho cominciato da una raccolta di racconti che è stata pubblicata l'anno scorso ma questo romanzo era già era già scritto era già conservato perché nasce da una nasce da un ricordo familiare nasce da una tragedia familiare uno scandalo avvenuto nei primi alla fine degli anni 40 che io ho desiderato trasformare in qualcosa di diverso ed è proprio questa storia la storia di Nora e Giorgio che ho voluto ricreare assolutamente dalla mia fantasia per dare all'odio una nuova dimensione Nora e Giorgio sono i due protagonisti che nel 1955 abbandonano Trapani è una giovane ragazza non ha nemmeno 20 anni è un uomo più grande di lei di 18 anni sposato e con un bambino piccolo abbandonano tutto abbandonano le loro famiglie e questo abbandono così doloroso così drammatico è stato proprio fonte di scandalo nella nostra città a distanza di quasi 60 anni nel 2013 Nora decide di tornare proprio qui a Trapani e di coinvolgere i figli di questo bambino abbandonato negli anni 50 è un'amica di questi due figli per raccontare finalmente la sua versione dei fatti quello che effettivamente era successo negli anni 50 e questa storia sconvolgerà completamente questo lungo racconto di Nora si intersecherà con le storie di questi due ragazzi e della loro amica e scopriranno delle connessioni assolutamente inattese degli eventi che poi si succederanno nelle pagine con l'alternanza tipica di una di una storia che si dipana man mano con tanti colpi di scena fino a cercare di raggiungere alla verità questa verità che questa donna dovrà cercare di far di far ammettere ai ragazzi che è l'unica l'unica possibile e bisognerà vedere poi cosa sceglieranno di fare loro se crederlo o meno tu sei riuscito a dimostrare appunto o a quanto meno mettere in evidenza con questo romanzo un aspetto psicologico in un certo senso del nostro vissuto quotidiano cioè l'odio che si tramanda di generazione in generazione pur non avendo vissuto in prima persona un determinato fatto i ragazzi a cui poi viene raccontato la versione dalla protagonista la Nora di quello che era successo a loro volta avevano odiato proprio quello che era il racconto che avevano vissuto tramandato dagli avi e questo succede no? succede fin troppo spesso che si ripetano le antipatie e gli odi appunto tra famiglie per delle cose che poi magari non stanno proprio così come si pensava stesso proprio così mi costa personalmente proprio anch'io ho ereditato quest'odio senza conoscere i protagonisti dello scandalo della mia famiglia lì purtroppo era una storia senza redenzione qui invece c'è un tentativo di redenzione e c'è un tentativo di cancellare questa catena che di generazione in generazione ha portato soltanto dolore c'è la difficoltà di essere genitore per questo bambino abbandonato la difficoltà di essere figlio e a sua volta genitore per questo ragazzo che invece che ascolterà il racconto di Nora che a sua volta è padre e scopriremo subito non riesce ad essere padre di sua figlia perché? non riesce ad esserlo perché l'affetto negato l'affetto negato durante l'infanzia rende assolutamente sconfitto quest'uomo che a sua volta non riesce a rinnovarsi non riesce a non replicare quello che è stato già il suo vissuto non ha ereditato l'affetto del padre e non riesce a riversare l'affetto sulla figlia sentimi quanto hai impiegato a scrivere questo libro? questo libro è stato scritto dal 2009 al 2013 il grosso nucleo del romanzo poi per tanto tempo mi sono chiesto se potessi avere davvero la dignità di essere pubblicato e allora ho cominciato a contestualizzarlo innanzitutto cioè c'è un attentissimo studio su quelli che sono i luoghi gli usi i costumi i profumi i sapori che sono tutti vissuti all'interno di queste pagine ecco perché questo va detto obiettivamente sono tre le location come si dice oggi che vengono che diventano protagonista alla loro volta del romanzo e sono appunto tre posti qui della nostra meravigliosa provincia a partire proprio dal capoluogo menzioniamoli allora partiamo il libro si apre e si chiude a Valderice proprio a misericordia ed è uno del c'è il momento corale finale ma c'è anche il momento della solitudine iniziale poi naturalmente Trapani Trapani è assolutamente protagonista ho cercato di regalare alla nostra splendida città tutta una visione nonostante i fatti che vi si svolgono non sono bellissimi una visione stupenda già negli anni 50 non soltanto adesso e anche Erice come non ricordare il monastero di Sant'Anna dove negli anni 50 io ricordo i miei genitori tante fotografie facevano i picnic in quel posto andavano su a piedi e si divertivano tantissimo poi ci si sposta a Palermo in un luogo magico il monastero di Santa Caterina d'Alessandria uno dei posti oggi più visitati di Palermo ma mentre io scrivevo c'era ancora la stretta clausura e riuscire a descriverlo è stata veramente un'impresa e anche il contatto con la suora di clausura che lo gestiva allora era la vicaria è stata una delle esperienze più incredibili di questa scrittura poi si arriva a Genova a Buenos Aires per poi tornare definitivamente a Trapani a Valdezio un viaggio ma soprattutto un viaggio nelle emozioni sì c'è da dire che questo libro questo racconto non è un racconto con un io narrante proprio perché il mio tentativo è quello di far entrare tutti all'interno della storia e di riconoscersi in uno dei personaggi ci sono questi tre ragazzi che portano avanti la storia dal loro punto di vista e che sono chiamati a riconsiderare la loro vita mentre Nora con questo lungo racconto che attraversa tutto il romanzo parla di sé e dei suoi anni e alla fine di ogni parte c'è infine una lettera di Giorgio negli anni 50 scritta che tenta di che ha il valore quasi di un'asseverazione di una prova che le parole di Nora sono parole reali e naturalmente c'è anche un attento studio del linguaggio in quel periodo perché quando tu parli in prima persona è come se fossi in quel momento è ovvio che devi parlare devi scrivere come se fossi in quel momento beh una storia nata negli anni 50 appunto 55 quando cose del genere erano davvero scandalose oggi purtroppo le viviamo quasi quotidianamente non ci si sorprende più eppure rimane attuale no? è attualissima ma soprattutto e questo lo voglio dire anche perché in questi giorni c'è un enorme dibattito intorno c'è una profonda analisi di quella che è la condizione della donna dagli anni 50 fino ad oggi questa donna bella colta con la capacità di un leader con delle aspirazioni che sono sue al di là del fatto che lei sa di essere una donna ma lei dice ma per quale motivo io non posso avere le stesse aspirazioni che ha un uomo e fino ad oggi poi vedremo come queste sue aspirazioni troveranno l'ostacolo spesso anche delle stesse donne che si spaventano di fronte a una donna così avanti rispetto a loro e poi naturalmente ci sono dei temi neri trattati nel romanzo che non posso anticipare semplicemente per non spoilerare perché questo è un thriller dei sentimenti beh mi piace questa definizione thriller dei sentimenti quindi un po' è un pugno nello stomaco assolutamente è un pugno nello stomaco e ci sono allora la famiglia è la protagonista una volta tanto non parliamo di economia una volta tanto non parliamo della politica in quanto tale ma parliamo non parliamo di mafia anche se c'è un'anima nera che ha un atteggiamento mafioso ma non nel senso stretto come poteva essere quello di un padre padrone che diciamo è una delle anime nere del romanzo ma una volta tanto si vive si scava all'interno di tutti i tipi di famiglie possibili a cominciare da quella di Nore e di Giorgio che formano una famiglia assolutamente strana e ne lasciano due che continueranno a vivere senza di loro e poi le tante altre che formano l'ossatura del racconto dove lo compriamo questo libro? questo libro lo troviamo qui a Trapani nell'alberia del Corso e l'alberia di Galli ma è acquistabile in tutte le librerie previa prenotazione in tutte le librerie d'Italia e poi naturalmente sulle piattaforme online sei già lavorando al prossimo? allora sì sto già lavorando al prossimo però siccome ho deciso di aspettare un attimo e di capire come la gente accoglierà questa storia per dare un taglio diverso alla storia che sto già scrivendo devo dire che già i primi feedback sono bellissimi noi abbiamo fatto una presentazione al museo San Rocco nella sala dell'abbraccio e hanno dovuto chiudere le porte perché la gente non riusciva a entrare c'è tutto il lavoro preparatorio di presentazione attraverso i miei social attraverso ovviamente anche i media ha suscitato comunque un interesse che mi ha profondamente stupito ma questo perché i sentimenti non passano mai di moda sono sempre qualcosa che ci riguarda in prima persona e ancora una volta è proprio la dimostrazione che oggi forse più che mai rispetto agli anni 50 è necessario parlare di sentimenti c'è fame di ritornare a ritrovare i sentimenti puri e il perdono poi alla fine insomma ah chissà quello che ci sarà se questo perdono ci sarà o meno all'interno del romanzo questo libro che sono io che vi chiamo primo romanzo di Giampiero Montanti interessante leggetelo e fateci sapere appunto come vivete questa storia che parte dagli anni 50 arriva ai giorni nostri in un continuum in un continuum sentimentale tra la verità vera la verità vissuta e la verità tra vivete raccontata dagli altri grazie se mi permetti Nicola io vorrevo solo leggere questo piccolo pezzettino che è assolutamente sintomatico e raduna un po' tutto quello che ci siamo detti e che penso che sia anche il senso la quarta di copertina che è un pezzo ovviamente all'interno del romanzo tutti noi in questa stanza siamo come foglie che appartengono allo stesso albero siamo vissuti su rami diversi la vita ci ha tenuto distanti ma il vento a volte battendo forte tra i rami ha fatto sì che qualcuno di noi arrivasse ad avvicinarsi e anche a toccarsi non a tutti è stato consentito alcune foglie sono state strappate via con forza dagli eventi ma oggi siamo qui una accanto all'altro e io per la prima volta nella mia vita posso tenere queste foglie tra le dita ammirarle accarezzarle con gli occhi e sperare che possano da questo momento in poi vivere come una vera famiglia Gian Piero Montanti a Repubblica Sicilia e Chiamaropa grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi